L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità dell'estensione di indicazioni dell'inibitore dell'SGLT2 da paglifozin per il trattamento dello scompenso cardiaco cronico sintomatico indipendentemente dalla frazione di eiezione. Poco tempo fa il farmaco era stato approvato anche per i pazienti con malattia renale cronica, diabetici e non diabetici. Ma qual è il significato della nuova indicazione? Lo chiediamo al professor Michele Senni che abbiamo incontrato a Milano in occasione della conferenza stampa dove è stata annunciata questa importante novità. Professor Senni, prima di parlare della novità in terapia le chiederai una breve premessa sullo scompenso cardiaco. Lei ha spiegato che ce ne sono due forme, a frazione di eiezione ridotta e preservata. Ce ne parla spiegando le cause e il quadro clinico? Credo che sia importante sottolineare questo aspetto che in effetti lo scompenso cardiaco può essere anche conseguente a una forma di insufficienza cardiaca in cui la contrattilità del cuore rimane conservata. Questo per anni non venne accettato anche dalla comunità cardiologica mondiale. Finalmente abbiamo con questo farmaco, con questa classe di farmaco, sicuramente la dimostrazione che esiste e che si può combattere. Qual è il problema? Che il cuore contrae bene, ma fa fatica a distendersi. Una pompa deve ricevere il sangue e poi pomparlo. Non è solo un problema quindi di pompaggio, di contrattilità del cuore, quella tipica dello scompenso cardiaco a funzione sistolica ridotta, ma in questo caso in quello in cui è preservata la funzione sistolica il problema è la distensione. Come gonfiare un pallone di un bambino preso alla fiera che con la bocca tu riesci a gonfiare. Il pallone da calcio che ha la stessa forma e il volume con la bocca non riesce a gonfiare. La differenza sta dove? Nelle pareti del pallone, che è più rigido e quindi fa fatica a riempirsi. È chiaro che questo tipo di scompenso è più frequente nei soggetti che sono anziani, che hanno più comorbidità, cosa vuol dire? Che hanno più ipertensione arteriosa, insufficienza renale, diabete, tutte condizioni che portano al cuore a essere più rigido, in cui la componente fibrosa è più ricca, in cui il muscolo, i miociti sono meno elastici. In Italia quanti sono i pazienti con scompenso cardiaco e quali sono i problemi nella gestione di questa condizione clinica? Ma dunque globalmente si stimano tra gli 800-900 mila pazienti in Italia, di cui il 50% ha una funzione sistolica preservata. Va ricordata la definizione di scompenso cardiaco, quella condizione, perché sennò molti non sanno cos'è lo scompenso cardiaco e questo è un aspetto molto importante da sottolineare. È quella condizione in cui il cuore non riesce a pompare a sufficienza il sangue per gli organi e porta quindi a quelle che sono i sintomi tipici, che sono la stanchezza, che sono la mancanza di respiro o i segni come il gonfiore alle gambe. Come avete spiegato oggi, adesso il medico ha uno strumento di cura in più per gestire questa patologia, il dapagliflozin. Quanto è efficace nel trattamento dello scompenso cardiaco? Ma è assolutamente una classe di farmaco rivoluzionaria, perché per la prima volta una classica di farmaco è in grado di trattare tutto lo spettro di frazione e deiezione, quindi lo scompenso cardiaco a funzione ossistorica ridotta, quella lievemente ridotta o quella preservata. Ed ha portato a dei risultati eclatanti con una riduzione della mortalità totale del 10%, della mortalità cardiovascolare del 19% e del 29% delle ospedalizzazioni. Quindi risultati decisamente formidabili che obbligano, tra virgolette, il medico a prescrivere di fronte a un paziente con insufficienza cardiaca. Come ha detto, il farmaco era approvato per la frazione ridotta. Oggi l'indicazione si estende anche a coloro che hanno una frazione di eiezione leggermente ridotta o preservata. Perché è un fatto importante? È un fatto importante perché fino ad oggi, pur essendo come quadro clinico così frequente, abbiamo detto che il 50% della popolazione con scompenso cardiaco ha una funzione sistorica o lievemente ridotta o preservata, non avevamo nessuna arma a disposizione. Parliamo di milioni di pazienti nel mondo. Detto questo, finalmente abbiamo un'arma a nostra disposizione che ha dimostrato di essere efficace nel cambiare quella che è la prognosi dei nostri pazienti, ma anche la qualità di vita, che anche questo è un aspetto molto importante. E quando andrebbe utilizzato questo farmaco? Andrebbe utilizzato il più precocemente possibile, perché ci sono dati eclatanti che dimostrano come da quando inizio la terapia io posso ridurre la morte cardiovascolare o l'ospedalizzazione per scompenso già entro due settimane dall'utilizzo di questo farmaco. Quindi è chiaro che non puoi aspettare. In generale, professore, che messaggio possiamo dare alle persone con scompenso cardiaco? Che abbiamo sicuramente un farmaco rivoluzionario a disposizione, che può dare veramente un cambiamento delle loro aspettative di vita, ma anche della loro qualità di vita, che è un aspetto ancora importante soprattutto nei pazienti più anziani. Quindi la scienza sta andando avanti, il progresso sta andando avanti e credo che sempre più avremo risultati con farmaci nuovi che potranno cambiare il loro destino.